Ci siamo e venerdì e naturalmente c'è Polifemo, buonasera a tutti, il nostro appuntamento fisso settimanale. Siamo in onda sul canale 93 del Digitale Terrestre, visibile in Puglia e in parte della Basilicata e siamo visibili sul canale 879 della piattaforma Sky, Viva l'Italia Channel, visibile in tutta Italia, in tutta Europa, nei paesi arabi e nei paesi del Nord Africa. Non si sa mai qualcuno fosse interessato. Una puntata, quella odierna, dedicata alle problematiche del commercio con particolare riferimento alla situazione di Italia Montegranaro. Non a caso siamo qui in ConfCommercio e siamo al fianco degli amici della delegazione di ConfCommercio di Italia Montegranaro. Una delegazione capeggiata, capitanata da Giuseppe Spadafino, lui appunto il presidente della delegazione. Ma avremo modo di ascoltare altri autorevoli ospiti. Alberto Mosca, vicepresidente di ConfCommercio con Delegal Commercio. C'è poi ancora a fianco a Mosca il decano dei commercianti di Italia Montegranaro, Giuseppe Buoncuore, dico bene. E poi Marcello Perri, presidente della sezione Orafi e Gioiellieri. E poi una nutrita schiera di amici. Ripeto, c'è un gelato che non è quello ipercalorico, ma è il nostro microfono. E quindi a beneficio degli amici che sono appunto nella seconda fila. Forse erano un po' più timiducci, scherzo naturalmente. E quindi se vorranno potranno tranquillamente intervenire, anche perché io ritengo che bisogna fare una informazione di servizio, una informazione non schierata, una informazione che vuole analizzare le problematiche del commercio a Taranto. Perché vedete, quella che è una mia concezione, io non sono per i grossi complessi industriali, ma io sono dalla parte del commerciante, dal piccolo e medio commerciante che si rimbocca le maniche, che la mattina si alza e va a lavorare. E che rappresenta, come dire, il motore di questo meccanismo, di questo ingranaggio complesso e sofferente a Taranto che si chiama economia. Quindi benvengano le problematiche, affrontiamole insieme, sperando che le istituzioni ci diano delle risposte. Noi in questa sede lanceremo degli input, ma si sa, molte volte abbiamo la sensazione e gli amici qui presenti me lo potranno confermare, che si parla a vuoto nel deserto. Cominciamo subito da Giuseppe Spadafino. Tante battaglie nel quartiere, l'amministrazione Stefano volge ormai al termine, siamo praticamente a pochi mesi dal termine, dai dieci anni di mandato. Qualunque sia il colore della prossima amministrazione comunale, ci sono dei temi da affrontare. Con quale spirito la delegazione si approccia a chi, ovviamente, andrà a governare, sottolineando quelle che sono le emergenze del territorio. Buonasera a tutti. Ringraziamo il dottor Abbate per questa occasione che ci sta dando come delegazione Italia Montegranaro. Così come lei ha detto in fase di presentazione, noi sono dieci anni che abbiamo avuto o provato ad avere un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, che è lì dove e quando ha funzionato, ha prodotto dei frutti. Ora, il tema è che questa delegazione dei commercianti e i commercianti del quartiere Italia Montegranaro hanno un rispetto notevole del quartiere stesso in quello che è la funzione sociale che i commercianti hanno tutti i giorni. Il nostro rapporto con i cittadini, con gli abitanti, ma con gli stessi clienti è forte. E questo rapporto noi lo vogliamo tenere, mantenere, avendo quell'attenzione che è dovuta verso il quartiere, perché poi i nostri negozi, in maniera opportunistica, ne possano avere i loro frutti. Chiaramente noi, come delegazione, nelle varie riunioni che abbiamo fatto, abbiamo compreso che le nostre attività non finiscono nell'uscio del nostro negozio, ma vanno fuori. Quindi è importante che le strade siano pulite, che ci sia un arredo urbano notevole, bello, gradevole, perché il passeggio sui nostri parciapiedici possa essere. E qui le lotte verso ogni tipo di negligenza, diciamo così, addirittura verso la carta che viene buttata a terra. Io ho assistito a miei colleghi che hanno ripreso gente che butta la carta per terra. Quindi ho la gomma per terra, tant'è vero che noi nelle varie proposte abbiamo anche formulato una serie di iniziative proprio per far sì che questa gradevolezza venga migliorata. Il tema qual è? Che noi, chiaramente, in virtù di quello che è il percorso che stiamo avendo per le prossime amministrative, dopo le lotte avute e per quelle che sono le situazioni dell'ultimo momento, che hanno prodotto un declino del nostro quartiere, che ci preoccupa particolarmente, perché noi abbiamo tantissime idee per il nostro quartiere. E voglio ricordare che lì dove in passato noi abbiamo avuto un rapporto eccezionale con la circoscrizione, che era anch'essa attenta verso il quartiere, i risultati li abbiamo sempre ottenuti. Questa interlocuzione, purtroppo, con l'amministrazione comunale, con i suoi percorsi, con le sue visioni, oggi è interrotta. C'è un blackout e questo blackout, in brevissimo tempo, al di là di quella che è una crisi generale, nazionale, internazionale, per quella che la città di Taranto è, diciamo, accentuata. Ora noi, da più parti ci viene detto, ma Via Liguria lavora, ma Via Liguria è bella, Via Liguria comunque mantiene il suo appello. E di questo noi siamo fiedi, perché riusciamo a difendere la nostra via commerciale. E sempre più lo vorremmo fare. Però noi, che siamo attenti i controllori della via, ci rendiamo conto che se all'occhio del consumatore tutto ciò che è bello, il passeggio eventuale, o piccole situazioni di degrado che stanno avvenendo, si accentuano, riteniamo che prima che non avvengano situazioni irreparabili, e voglio ricordare la situazione al Borgo, la desertificazione, voglio ricordare l'eserrante Via Principe Amedeo, Via Anfiteatro, che oggi ha uno scatto d'orgoglio. I miei colleghi di Via Anfiteatro stanno avendo veramente un notevole scatto di orgoglio, ma sono sempre i commercianti che hanno il recupero verso la via, verso il quartiere. Ora il tema qual è? Che noi sicuramente non vogliamo morire. Noi sicuramente vogliamo stare sul territorio con le aziende, che sono aziende anche storiche. Via Liguria ha una forza, il suo appello commerciale. Ha dei belli supermercati, ha delle belle salumerie, ha delle belle macellerie, ha il tabaccaio. Sì, purtroppo sì, ma di questo poi magari ne parliamo. Solo Italia e Via Liguria. Voglio dire, ha i suoi panifici, ha il quotidiano, ha quel quotidiano che dà una forza al quartiere. In questo quotidiano noi riteniamo che il mercatino di Via Lucania ha un'importanza notevole, perché il nostro centro commerciale, così come vediamo noi la delegazione di Italia Montegranaro, ha una valenza, quella di avere l'area food, quindi tutti questi negozi, che si integrano con un'area specializzata che però va migliorata, va migliorata per quella che è il valore che Via Liguria e il quartiere stesso ha. A caso delle cose strane, noi di questo ne vorremmo parlare. Vedremo i vari settori, quello della viabilità, quello della sicurezza, abbiamo il nostro referente per la sicurezza, quello dei tributi e anche quella della raccolta dei rifiuti, che funzionava benissimo nella nostra azione, ma inspiegabilmente è stata interrotta. E poi è necessario appunto fare un passaggio con il signor Buon Cuore, mi hanno detto. Buon Cuore, scusi, ha ragione, specifichiamo con la sua bella gioielleria che da tempo si cura, e che si difende anche lui e che ha una visione del quartiere che viene dai tempi che furono. E allora, Alberto Mosca, vicepresidente di Conf Commercio, con delega al turismo, al commercio, pardon. E l'Apsus... Vi bastano perché gli impegni ce ne sono veramente tanti. Forse era un sogno quello del turismo, è stato un sogno, perché effettivamente se le attività commerciali venissero adeguatamente sostenute dalle istituzioni, si creerebbe un giro virtuoso, arriverebbe il turismo e quindi con il turismo ovviamente la crescita economica delle varie realtà. Abbiamo menzionato una parola pesante, quella dei tributi. Già una realtà sofferente, quella tarantina, e piove sul bagnato, o passatemi un'espressione tarantina in dialetto, a tigna su sa capa malata, si dice, perché non dobbiamo mai dimenticare le nostre origini, il nostro legame col territorio, come anche, ecco, prego gli amici dalla regia, la famosissima maglietta, sapete tutti, no? Yes, patch, per te, tutti gli amici del minibar. Questa maglietta è diventata storica e questa maglietta storica reca un'espressione in dialetto tarantino. E allora, Mosca, parliamo di tributi. Parliamo di tributi, è una nota dolente, chiaramente, perché parliamo di un comune, il nostro comune di Taranto, che con la scusante del dissesso, per dieci anni, non ha fatto altro che mascherare continui aumenti e negare quelle che potevano essere determinate riduzioni di tasse che, ricordiamoci, a Taranto sono le più alte in assoluto. Noi abbiamo, come Confcommercio, un osservatorio che ci permette di guardare una proiezione, non solo a livello provinciale, regionale e nazionale, per poter fare eventuali paragoni fra ciò che paghiamo a Taranto, non solo noi commercianti, ma noi comuni cittadini. Quindi significa che noi comuni cittadini andiamo a pagare la più alta tassazione sulla raccolta dei rifiuti. Perché? Perché non si vuol far partire un inceneritore? Un inceneritore che è proprietaria, il comune, ma che stranamente non riesce a partire. Non vogliamo continuare a seguire quello che è il ragionamento della differenziata, una differenziata che abbiamo visto, seguito, partecipando a numerosissimi tavoli e che praticamente dovevano servire per migliorare e quindi concentrare con la differenziata un servizio, non solo ai cittadini, ma anche ai commercianti. Una raccolta semplice del cartone, partita, stranamente bloccata, non c'è stato nessun monitoraggio di questa raccolta e poi, chissà com'è, tutto quanto va a dileguarsi in un certo modo senza nessuna risposta. Non dimenticando che noi della Confcommercio con tre interventi all'interno del Consiglio Comunale siamo riusciti, nel nostro piccolo, come associazione, ma non è piccola la nostra associazione, perché non dimentichiamo che è l'associazione che ci ha più iscritti sulla provincia di Taranto. Con il nostro intervento nel Consiglio Comunale abbiamo evitato che ci potesse cadere l'ulteriore tegola di ulteriori aumenti sulla raccolta dei rifiuti. Quei famosi blitz che abbiamo. Esattamente. Questo per mascherare, chiaramente, costi proibitivi che l'AMIU, un'azienda partecipata del Comune di Taranto, deve continuamente coprire. Coprire buchi che non si riesce a capire in quanto, poi, quando arrivano stranamente le persone giuste, mi riferisco all'ex presidente Cangialosi, dove con lui avevamo tracciato una serie di percorsi, proprio per poter recuperare un po' di risorse legate a quello che poteva essere il modo di raccogliere, la raccolta differenziata, parte dell'abusivo, perché l'abusivo che non paga la tassazione, il suo non pagamento si ripercuote su chi paga. Quindi pagare tutti per pagare meno. Queste sono cose che a volte si danno per scontato, ma non si perseguono. Quindi che significa? Che noi siamo costretti a sobbarcarci il costo di tanta altra gente. Non dimenticando sulla tassazione, concetti come le imposte di pubblicità, la famosa insegna, che stranamente sta sempre sui livelli massimi, per spiegare praticamente quello che è il dissesto, come aggancio per la tassazione così elevata. E mi perdoni, Mosca, se la interrompo, queste insegne luminose molte volte sostituiscono, sopperiscono alla carenza strutturale di pubblica illuminazione. Perché immaginate un attimino, se quelle insegne fossero spente, noi ci troveremmo nel deserto completo. Penso a quest'estate, e ho avuto degli ospiti che provenivano da altre città, e immaginate un po', pensavo il tratto di Via Matteotti, quello che congiunge, per capirci, Piazza Garibaldi al ponte girevole, diciamo al lungomare. Bene, se spegnessimo, se avessimo spento le insegne, in piena estate, parlavo di turismo nel mio lapsus, immaginate, senza quelle insegne, e ci troveremmo nel Bronx. Ecco perché, vedi, mi aggancio subito. Quando poi si percorrono strade tipo Via Principa Medeo, o parte di Avviti Teatro, dove sono totalmente spente delle zone, uno cosa fa? Bisogna evitare di arrivare a quel punto. Oggi si va a trascurare l'importanza dell'apertura di un'attività commerciale, perché è sinonimo di quello che può essere la vivibilità del quartiere, che è determinante. Per finire, volevo solo aggiungere altre due cose che sono importanti. Oggi, perché noi abbiamo fatto gli incontri sia con questore che con il nuovo prefetto, dobbiamo stare attenti a questo dilagare di abusivismo che viene preso con un po' di superficialità da parte del Comune, non da parte di queste forze che vorrebbero, istituzionali, che vorrebbero fare di più, ma a volte, praticamente, giustamente, loro dicono la responsabilità non è nostra, la responsabilità è del Comune che deve fare qualcosa. E come mai non si vuole fare niente? Mi domando. Oltretutto, abbiamo assistito a una uscita, un'espressione certamente infelice da parte del Sindaco Stefano, il quale ha detto sì, però dovete anche capire che quando ci sono eventi particolari, dobbiamo essere tolleranti, dobbiamo comprendere chi vende, per esempio, panini e bibite abusivamente. E a questo punto, io mi domando, ma la cultura della legalità esiste o no? Dobbiamo normalizzare l'illegalità? Dobbiamo dire che ci sono i dritti e i fessi? Dobbiamo dire che l'amministrazione comunale sa essere forte con i deboli e debole con i forti? Esattamente, perché poi il problema sempre rimane come fondo che chi paga le tasse paga lo stipendio di chi deve andare a controllare, però non si capisce come mai chi deve andare a controllare invece di perseguire le persone abusive va sempre a controllare dai soliti che hanno il loro negozio e il loro numero civico. Perché poi, siccome io ormai di nemici ne ho tanti nelle istituzioni, ma di amici nel tessuto produttivo tra la gente semplice e ne ho grazie a Dio ho simpatia e credo di esservi conquistato nel mio piccolo una certa stima e noi notiamo situazioni aberranti. Se dico per dirne una così, un anno fa ho assistito a una scena che mi ha lasciato raccapricciato, c'era un bar in centro e aveva due tavolini ma proprio due miseri tavolini sui quali erano esposte delle calze della Befana, apriti cielo, mancava solo che arrivassero le forze dell'ONU anche a bloccare. Poi, e io siccome paura non ne ho, penso a Via Temenide, penso a Via Mazzini, pensate a quello che accade, tutta quella zona, lì evidentemente è una zona franca, lì vale il principio giuridico della extraterritorialità, cioè come le forze armate italiane non possono entrare nella città del Vaticano, parimenti le forze dell'ordine, le forze dell'ordine volevo dire, non possono entrare via Temeni di Via Mazzini. Più che altro giro dall'arco. Eh, appunto, quindi signori delle istituzioni, diamoci una mossa perché qui, qui ripeto, non posso accettare la logica dei dritti e dei fessi o meglio dei prepotenti e della gente per bene perché sarebbe offensivo chiamare fesso tra virgolette il commerciante che paga le tasse. Qui si tratta di persone corrette, di cittadini che cercano di svolgere la propria attività nell'alveo dell'ottica del cittadino modello e poi c'è la violenza, la prepotenza, la tracotanza, una tracotanza giustificata e coperta dall'amministrazione. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifevo, siamo qui nella sede di Confcommercio Taranto e siamo con la delegazione di Italia Montegranaro per affrontare le problematiche del commercio in generale ma in modo particolare del rione del quartiere Italia Montegranaro. Abbiamo ascoltato Giuseppe Spadafino presidente della delegazione, abbiamo ascoltato il vicepresidente di Confcommercio con delega al commercio Alberto Mosca, ora passiamo a Marcello Perri che è il presidente della sezione orafi e gioiellieri di Confcommercio. Beh, quando pensiamo ai gioiellieri pensiamo agli orafi e pensando a tanti accadimenti degli ultimi giorni il pensiero non può non andare al tema sicurezza. A che punto siamo in questa città e nel suo quartiere? Buonasera a tutti, grazie. Luigi, lasciami dire una cosa che non è incenso o piageria. In questa città le istituzioni che funzionano sono quelle delle forze dell'ordine. Perché abbiamo... Si avvicina il microfono l'assumiamo nello staff di Polifimo. Pensavo dovessi tenere un tantino distante per non far sentire il mio slang vicentino. Va bene. Scherzavo comunque. Stavo dicendo che le uniche istituzioni che funzionano sono quelle delle forze dell'ordine in tutte in particolare ma in particolar modo polizia e carabiniere con i quali abbiamo anche un rapporto eccezionale un rapporto di collaborazione che è mirato appunto a far sì che la sicurezza venga migliorata. Ora la sicurezza in questa città sotto l'aspetto delle statistiche e dei fatti criminosi che si perpetrano ha detta cioè ha detta anzi le statistiche dicono che è una delle città meno toccate dal fenomeno della criminalità. Questo che significa? Significa che il problema non è sentito anzi tutt'altro perché parlare di sicurezza e di tranquillità sotto l'aspetto appunto del fenomeno non è soltanto i fatti criminosi che purtroppo specialmente negli ultimi tempi se ne sono verificati un tantino di più. La sicurezza è un fattore indrinsoco alle persone è un fattore di stato d'animo e se lo stato d'animo di una persona è aggravato da tanti problemi quello della sicurezza viene sentito maggiormente. ora fatto questa panoramica questa è una città che ha problemi grossi grossi di economia di sicurezza in generale di vivibilità e allora i fenomeni che si sono verificati hanno fatto sì che in tutto il nostro comparto e non solo il nostro comparto ma in tutta la cittadinanza ci si mettesse in uno stato d'animo di allarme. Noi come Confcommercio il problema della sicurezza ne facciamo uno dei punti principali perché se non abbiamo quel minimo di sicurezza non ci può essere certamente economia ammesso che quella giri perché non gira per cui voglio dire il nostro rapporto è il dialogo con le forze dell'ordine è dare ai nostri colleghi di far sì di segnalare qualunque situazione in cui possa essere prevenuta un crimine per far sì che non avvenga poi come dire noi per esempio negli ultimi eventi che si sono verificati in via Liguria nella fattispecie quello di furti e di abbattimento delle vetrine nell'arco di 24 ore abbiamo avuto le porte aperte della questura con i quali abbiamo come dire instaurato un loro hanno instaurato un rapporto un servizio di vigilanza più proficuo che penso abbia dato i risultati tutto sarebbe bello poi ne potremmo parlare anche di tutta quella problematica avete visto gli ultimi accadimenti relativi appunto a questa legittima difesa chiaramente è un gioielliere e purtroppo tanti malfattori proprio per il tipo è un po' controverso bisogna vedere il confine e qual è quello della legittima difesa ed armarsi per dire io nella mia attività e faccio un'attività come tu hai detto molto a rischio la cosa che ho sempre detestato è quella di avere un'arma perché è sempre una un ripetersi di parole è un'arma a doppio taglio che può procurare tanti di quei guai che tu non neanche le immagini insomma specialmente se uno è medico e gira con la pistola è un lapsus scortesemente gli amici e allora io sinceramente avrei paura di maneggiare un'arma perché poi non si sa mai può scattare una reazione così non prevista e quindi specialmente se uno non ha ovviamente dimestichezza perché chiaramente un operatore delle forze dell'ordine sa ovviamente come muoversi ma una persona che c'è il portodarmi ma in quelle situazioni non si sa preso dal panico preso da 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 mille ma poi bisogna commisurare il danno subito all'offesa che si fa io penso che la proporzione valga molto di più è più elevato di quello che può essere il furto delle stecche di sigaretta oppure passiamo la parola anzi il microfono al decano dei commercianti Italia Montegranaro Giuseppe Buoncuore decano gioielliere dal 1969 intanto si prepari perché ci sarà una sorpresina bisogna riconoscere i meriti di una una pietra miliare del quale lei del commercio tarantino e di Italia Montegranaro ma tutto al tempo debito fino a quando non sarà ci sarà tempo nel corso della trasmissione ma la sorpresina gliela preannuncio allora lei ha visto dal 1969 ad oggi 69 79 89 99 48 io ne ho 44 pensi un po' lei iniziava la sua attività nel 69 io sono del 72 e io ero ancora ma chissà dove in cielo poi mi hanno scalaventato sulla terra colpa dei miei genitori scherzo li abbraccio stavamo bene a Taranto nel 69 ecco era una città pulita ecco volevo proprio su questo volevo fare un parallelo tra la Taranto dal punto di vista del commercio diciamo degli anni 70 sì giusto anche andando agli anni 80 e oggi perché abbiamo visto abbiamo assistito ad una involuzione pericolosa ricordiamo gli anni 90 gli anni del fuoco delle sparatorie e poi tutto questo sistema ma di io dico di decadimento anche proprio tanto economico quanto morale in certi casi ecco c'era forse all'epoca il boom dell'Ital Cedar magari non si vedeva quello che accadeva nell'aria c'era un boom oggi vabbè lasciamo perdere che poi ora anche all'Ilva c'è la cassa integrazione quindi neanche dal punto di vista dell'occupazione della vilmoneta si sta tranquillo ma facciamo un excursus così un parallelo tra la Taranto degli anni 70 80 e quella dei nostri giorni buonasera sono Giuseppe Buoncuore gioiellieri in Taranto ecco parlo diciamo come la trasmissione mi ricordo che torno indietro Amarcord Amarcord negli anni 70 Taranto era una bella città veniva governato non lo so da gente se erano politici o non politici però era gente per bene anche questi sono per bene però non sono politici perché hanno distrutto questa città oggi quello che vediamo nel quartiere passando si vedono solamente badante che portano la gente a passeggio gli anziani gli anziani i portatori di enica purtroppo con le malattie con le malattie che abbiamo nella nostra città nessuno ha fatto niente o nessuno vuol far niente quindi il commercio cade sta cadendo sempre di più sia al centro in periferia in via Liguria dappertutto non sappiamo che cosa più fare andiamo avanti con le nostre forze fino a questo momento non sappiamo fino a quanto che ce la fariamo Signor Buoncure io per esempio penso alle vie centrali di Taranto non siamo per esempio via 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 anfiteatro e lì si sta assistendo ad una moria di attività commerciali ma anche quelle attività storiche tradizionali vediamo le serrande abbassate vediamo quelle vetrine consunte dal tempo che denunciano che quell'attività è chiusa da anni e da anni e si vede la ragnatela il degrado cioè questa è un'immagine triste se io porto un turista a Taranto io porto un turista a Taranto e lo faccio mi è capitato un altro giorno una 15 di giorni febbra con un mio amico da Firenze e dico vi facciamo vedere il centro di Taranto però non è che potevo perché non volevo fare brutta figura alla mia città perché io amo come amiamo tutti noi la nostra città allora quando viene l'ospite a casa uno cerca di far vedere le stanze migliori no? non la polvere sotto si mette molte volte la polvere sotto il tappeto e mi sono dovuto ingegnare a Taranto dico beh faccio vedere il ponte girevole faccio vedere il lungomare e poi che devo fare? me lo devo prendere in macchina e me lo devo portare a Ostugno a Martina dobbiamo dirci queste cose? Martina sta a 30 km da Taranto ma vanno tutti a Martino che vanno l'altro giorno trovandomi all'Ipercop invece di fare la superstrada ho fatto il Mar Piccolo la Circum la Circum Mar Piccolo mi ricordavo negli anni 70-80 che era il paradiso di Taranto era quello lì invece ho visto che oggi è l'immondizia di Taranto caro sindaco ma dove sei? non ti sei fatto mai vedere? non ti conosciamo Stefano io conoscevo tuo padre non era come te tuo padre era bravissimo questa persona però tu sei cambiato Stefano ecco quello che voglio dire io beh cogliamo lo sfogo è distrutta Taranto la vede distrutta speriamo che le nuove forze politiche siano Tarantini Tarantini diversi diversi Tarantini che vogliono bene alla nostra città non che che deve morire ancora stiamo morendo io vedete credo che a Taranto non sia una questione di colore politico ma di uomini anche perché amministrare una collettività amministrare una città significa creare quei presupposti minimi per la vivibilità che poi sono l'ulteriore presupposto per una crescita ulteriore qui non è che stiamo parlando di grossi temi filosofici dei massimi sistemi non stiamo parlando delle missioni di guerra non stiamo parlando se uscire dall'euro non stiamo parlando dell'aborto non stiamo parlando delle unioni civili non stiamo parlando dei voucher stiamo parlando di argomenti terra a terra perché poi il cittadino dice almeno dateci quel presupposto quel minimo di vivibilità per poter vivere bene noi cittadini e per far sì che il commerciante possa svolgere la sua attività per un proprio ovviamente un lucro personale ma anche per per rendere un servizio alla città insomma quindi lei ha visto io comprendo lo sfogo del signor Buoncure perché giustamente è una persona che ha vissuto varie fasi varie fasi varie fasi politiche tanti sindaci lo rosso non te li dico tutti sono tanti sono però mai in questo degrado mai mai visto non si vede un vicile non si vede più nessuno ha da passare a nottata diceva diceva perché poi dopo la notte si spera che venga il giorno non posso pensare il sole non posso pensare che saremo condannati a un'eterna notte d'inverno la natura farà il suo corso auguriamo di arrivare la primavera come disse Mussolini ma pensano proprio era una battuta altrimenti qui poi si crea un un tema diciamo ha nominato Mussolini come personaggio storico in generale riprendiamo il nostro giro da Spadafino parlando Spadafino presidente della delegazione Italia Montegranaro abbiamo parlato di temi generali abbiamo parlato anche di abbiamo fatto qualche riferimento alla viabilità e questo è il punctum dolens la nota dolens il vero dramma molti hanno voluto speculare sulla problematica dei cordoli volendo minimizzare così marginalizzare le tematiche poste in essere dai commercianti però io dico quella scelta non voglio parlare del cordolo in sé per sé però dico è stata una decisione così presa repentina si direbbe in termini giuridici inaudita altera parte cioè non avendo ascoltato le esigenze le denunce le richieste le dimostranze degli operatori la voce degli operatori cosa è cambiato? nulla peggio di prima voglio però partire da un discorso di metodo perché se no il rischio è che chi ci ascolta poi ci strumentalizzi sempre questo discorso perciò ho fatto la premessa infatti era importante certo è che anche di questo dobbiamo parlare perché se no saremmo degli ipocriti il tema però qual è? che così come dicevo prima in virtù di cose fatte da parte dei commercianti quando si parla di viabilità non si parla solo di linee veloci e di cordoli si parla di parcheggi di parcheggi a pagamento strisce bianche strisce blu aree di sosta aree dove l'handicap deve avere i suoi privilegi parcheggi di scambio momenti di carico e scarico momenti di manovra quindi noi riteniamo ancora oggi che non ci siano i presupposti perché in quell'area ci siano quei cordoli ma perché si è rotto un equilibrio quell'equilibrio che via Liguria ha a livello commerciale a livello di gradevolezza a livello di diciamo di traffico va detta una cosa che sicuramente la doppia fila va condannata però non è quello il metodo anche perché le dimensioni della strada non permettono una viabilità molto e tutto si sta ricreando la doppia fila con danni peggiori per farle ascoltare ogni singolo commerciante il meno che ha avuto si ripercuote su quello che poi è il processo di degrado del quartiere perché qui tanti stanno provando a mantenere quel brecchivo in quel punto di pareggio per mantenere i costi dei fitti però già qualche segnale lo stiamo vedendo delle serrande si stanno chiudendo e quando quel processo si genera diventa difficile poi doverlo riprendere qual è cosa i commercianti di Via Liguria e di Italia Montegranaro vogliono fare i commercianti di Via Liguria e di Italia Montegranaro vogliono essere come sempre protagonisti e sicuramente non si arrendono il tema è che oggettivamente dobbiamo ragionare sulle nuove forze politiche che si verranno a proporre qualunque se siano noi abbiamo le porte aperte per dei confronti su una visione di quartiere quindi oggi pubblicamente ma probabilmente nei prossimi giorni lo faremo in maniera più massiccia chiederemo alle forze politiche che intendono presentarsi per le prossime amministrative di venire a confrontarsi con noi e con i cittadini che con noi stanno facendo un discorso di quartiere che oggi manca attualmente quindi ora quale vuole essere la nostra logica quando si parla di viabilità noi siamo stati protagonisti della viabilità abbiamo creato negli anni passati un parcheggio in via Emilia Campania e Lucania fatto dai commercianti oggi ieri mi si era detto che per la scuola Leonida si sarebbe dovuto fare un parcheggio nei giorni a venire di cui ancora oggi non si sente ancora parlare o mi sembrava che il parcheggio lo dovessero fare il giorno dopo ma io non ho sentito più nessuno quindi adesso noi ripartiremo con l'attenzione verso quel parcheggio poi una volta fatta l'analisi degli equilibri sulla viabilità vedremo se quei cordoli sono opportuni o no cosa parliamo di marketing siamo stati protagonisti per i marketing perché le notti panno le luci di Natale i giochi di maggio passi o cristi l'hanno fatta i commercianti col comune in un discorso di binomio ma l'hanno fatto i commercianti noi siamo protagonisti anche per quelli che sono gli arredi andiamo a stare attenti al nostro pezzo di strada che ci andiamo a pulire tutti i giorni abbiamo fatto un progetto sui fiori e intendiamo mettere i fiori su via Liguria che qualcuno ma non potremmo farlo sotto la campagna elettorale perché non vogliamo che qualcuno strumentalizzi azioni che abbiamo proposto e che nessuno ha ascoltato vogliamo provare a fare azioni di marketing e ci siamo azioni di arredo e di viabilità e ci siamo cioè cosa deve fare più il commerciante per l'attenzione che deve avere sul cuore sulla sicurezza anche lì vogliamo essere protagonisti perché abbiamo deciso facendo un discorso con la polizia e con i carabinieri di allineare le nostre telecamere chi non ce l'ha si approvvigionerà attraverso delle agevolazioni su quelli che sono processi di attenzione perché così diciamo quelle zone buie vengano riprese il commerciante è un protagonista in questo senso su via Liguria lo è ancora di più perché noi amiamo il nostro quartiere abbiamo un binomio nella nostra piazzetta interlocchiamo con i nostri i cittadini sappiamo che siamo riferimento non solo per il nostro quartiere che fa 40.000 ma per San Vito l'Ama Talsano e vogliamo rimanere protagonisti anzi noi da via Liguria sappiamo che la partenza della città parte dal borgo e che da lì bisogna riprendere però è chiaro che incominciamo a preoccuparci di processi che hanno rotto degli equilibri dove la nostra zona devo dire comunque rimane gradevole comunque rimane appetibile ma sta subendo una fase di degrado preoccupante c'era l'amico alle sue spalle che mi pare volesse dire qualcosa cediamo il microfono ho visto che la timidezza siamo tra amici non Antonio presentiamo Antonio lo conosciamo poi li facciamo dire giusto Antonio è uno di quelli che nell'ultimo periodo ha fatto un investimento importantissimo su via Liguria ha fatto una macelleria dove ha investito è un salotto rinnovando ed è un bel andando a investire anche su idee nuove quindi questo vuole essere mettersi in gioco ed Antonio è uno degli esempi insieme a quello di tutti gli altri di quanto si crede nel quartiere purtroppo avvicini il microfono purtroppo noi cerchiamo di fare di tutto per poter rendere sempre più bella sempre più vivibile la nostra la nostra via però purtroppo è da dire anche che chi ci amministra non è da adesso è da più di bel po' di tempo non ci sta calcolando minimamente non ci sta pensando minimamente noi stiamo avendo un calo del 10 12 13% che è una grossa somma almeno per me per gli altri non lo so ma penso per tutti non è che si navighi nel loro una grossa somma una grossa somma di perdita per la nostra attività io ho come diceva Giuseppe una bella azienda una bella macelleria dove ho investito ho otto dipendenti dove ho investito tantissimo per poter rendere più bella la via più bella la mia attività e cercando di lavorare nel miglior modo possibile ciò che non sta avvenendo perché purtroppo con questa perdita c'è un grosso rischio che piano piano dobbiamo iniziare a diminuire il personale invece di aumentare il personale lo dobbiamo diminuire questa è la realtà ok ora ce ne andiamo in pubblicità tra poco bene rieccoci terza parte di Polifemo le problematiche del commercio a Taranto viste vissute sotto l'angolo visuale della delegazione di confcommercio presso appunto Italia Montegrano intanto abbiamo questa bellissima maglia la vedete yes patch per te tutti gli amici del minibar avete visto la bellissima storia di questa di questa maglietta e significa che Taranto ha un grande cuore Taranto forse ha bisogno degli stimoli giusti per poter esplodere ma nel senso positivo del termine e ritorniamo nel nostro giro da Alberto Mosca Alberto Mosca vicepresidente di confcommercio con delega al commercio e allora Mosca io dico sempre che i bracci operativi dell'amministrazione comunale sono l'AMIU e l'AMAT abbiamo parlato poc'anzi di AMIU questa volta parliamo di AMAT e quando parliamo di AMAT si apre un altro bubone il palazzone ex OPIM grazie e il suo futuro senza prima volevo però fare una riflessione una riflessione che parte da questa iniziativa che ha visto con la partecipazione di un personaggio delle Iene poter raccogliere un importo importante per la città di Taranto ma la riflessione dove sta oltre 300 e passa mila euro la cosa strana che volevo io dire è che non ci si può sempre sostituire praticamente quello che dovrebbe essere il pubblico cioè ciò che deve essere che deve fare una regione per la sanità noi ci siamo autotassati perché questa colletta diciamo di cittadini che non solo di Taranto ma a livello nazionale praticamente ha cercato di sostituire una mancanza praticamente del pubblico una mancanza che a Taranto noi guardiamo continuamente una mancanza che a volte viene mascherata per fare cassa e mi faccio mi vado a ricollegare a quello che stavi dicendo tu dell'AMAT che con l'operazione del palazzo ex-upim non ha fatto altro che fare cassa parliamo di una zona dove c'è un grosso problema di parcheggio uno stabile che poteva poter essere adibito a silos loro ci hanno detto che non potevano poter ristrutturare la struttura perché costava tanto conveniva a loro darla per far ristrutturare a un terzo la struttura o parte della struttura io mi chiedo se effettivamente sarà così se non avremo qualche sorpresa che poi chi l'affittuario si andrà ad aggiudicare perché sappiamo che c'è stato un bando c'è stata un'aggiudicazione non conosciamo molte cose stiamo facendo un accesso agli atti per capire meglio una serie di notizie che devono essere più che altro verificate lì dovrebbe sorgere la Lidl lì dovrebbe sorgere però riflessione sempre ci dovrebbe essere il parcheggio di attinenza il parcheggio di attinenza perché se io devo andare a fare spesa alla Lidl e poi c'è la Fadini come è la normativa che te lo dice per aprire un supermercato che magari sono di 1500 metri ci vogliono altri 1500 metri di parcheggio e dove starebbe sui terrazzi ma poi bisogna adeguare la struttura per questo parcheggio e chi pagherà questo adeguamento di questa struttura non dimenticando che poi a due passi abbiamo un mercato Fadini un mercato Fadini che praticamente andava un attimino risistemato a fianco abbiamo il parcheggio artiglieria un parcheggio artiglieria che è stato sempre le famose passerelle io le chiamo le passerelle dove vanno a dirti vedi che fra poco partiamo vedi che fra poco lo facciamo ma passa un anno passa due anni tutto tace quindi arriveremo a questa nuova e ora Mosca figuriamoci con le elezioni bravissimo a proposito delle elezioni mi perdoni Mosca potete stare preoccupati perché non mi candido e non candidandomi da giornalista romperò le scatole più di prima quindi preoccupatevi questo a scanso di qualcuno che poteva pensare altro continuo a fare il giornalista d'altro canto non c'è da meravigliarsi della sua eventuale candidatura perché a Taro ci sono candidati tutti no ma non preferisco si può fare politica non partitica ma politica con la P maiuscola quella della polisi degli interessi della città ognuno nel proprio ruolo ognuno di noi fa politica quando si sveglia la mattina anche dire bevo il latte anziché il tè quella è una scelta dico per estremizzare esattamente allora ognuno di noi può fare politica voi come commerciali ma come interesse verso le problematiche del territorio ma la stranezza è poi no quando altri interventi che mi hanno preceduto uno dice ma queste persone amano la propria città io mi chiedo questo ma io quando mi alzo la mattina posso fare qualcosa per la mia città è questa la cosa che questi benedetti politici devono mettersi in testa qua non dobbiamo fare un interesse per terze persone dobbiamo fare un interesse per la collettività e questa è la cosa che ti più fa male perché non riescono a capire che a volte con cose semplici condivise condivise non che uno si alza la mattina e decide per tutti senza sentire un'organizzazione o le organizzazioni che possono dare con il loro supporto tecnico e lì ci sono le competenze se mi permetti perché a volte un supporto sfruttare il supporto tecnico di una struttura come può essere la nostra che ti permette di seguirti un bando quello che potrebbe essere il ragionamento della viabilità i parcheggi noi abbiamo detto avete un problema con l'artiglieria benissimo abbiamo trovato anche degli imprenditori che volevano investire nel fare il parcheggio artiglieria ma non sta bene abbiamo un parcheggio cimino che è stato finito da tanto tempo ma stranamente perché non parte chi ha interesse a non far partire un parcheggio cimino chi? la grande distribuzione forse? no ma oltretutto se noi pensiamo passatemi l'espressione a quel porcile che sta al porto mercantile che è il peggiore biglietto da visita per chi arriva a Taranto sembra di stare nei bassifondi del Venezuela della Bolivia nelle peggiori bettole di Caracas per capirci è un'immagine squallida questo parcheggio di interscambio così lo avevano definito bravissimo dove si dovrebbe spostare anche scusami un capolinea perché lì non è solo il parcheggio di interscambio un capolinea poi ci sono le famose tra virgolette associazioni che dicono noi vogliamo fare vogliamo fare ma io veder fare non ho visto niente cambiamenti non ho visto niente erano cambiamenti che si dovevano fare l'indomani abbiamo fatto un incontro l'ennesimo incontro farsa con il sindaco che ci ha promesso che l'indomani era pronto un parcheggio o l'altro o l'altro tutta tutta roba che non c'è stato un seguito è allucinante quello che noi guardiamo le spese che loro sopportano a scapito di noi cittadini ok andiamo ritorniamo meglio da Marcello Perri presidente della sezione Orafi e Gioiellieri di Confcommercio Taranto abbiamo parlato nel primo intervento della sicurezza in generale ora vorremmo parlare dei cosiddetti sistemi di sicurezza passiva penso alla videosorveglianza e quant'altro non è possibile avere un poliziotto per ogni attività per cui possa come dire funzionare e fungere da deterrente eventuali crimini per cui è fatto sì che come dicevo prima le forze dell'ordine sono all'altezza ma anche loro sorferono di carenze economiche di carenze di personale quindi anche questo è un problema col quale bisogna misurarsi che cosa ci dicono le statistiche gli studi fatti sinora che ognuno di noi si deve attrezzare con sistemi di sicurezza passive che ce ne sono tanti sono all'avanguardia che a che cosa servono certamente non a eliminare la criminalità perché la criminalità è un fatto atavico e che possiamo solo tenerla lasciatemi il termine al di sotto di una soglia che anche questa noi vorremmo che la debellassimo però cosa assurda al di sotto di una soglia accettabile lasciatemi passare il termine che non è anche il proprio allora bisogna come dicevo attrezzarsi con i sistemi di sicurezza passive che ce ne sono tanti e nella fattispecie negli ultimi tempi sono migliorati nonché migliorati anche sotto l'aspetto economico per chi si vuole attrezzare e fare la spesa sistemi di videosorveglianza e di videoallarme spiego in che cosa consiste la videosorveglianza è l'occhio di una telecamera sulle vie della città e questo è un compito che diciamo che dipende ed è dovrebbero adoperarsi i comuni gli enti preposti alla tutela del commercio nella fattispecie faccio un esempio la camera di commercio che deve badare anche a queste cose perché la sicurezza per le attività commerciali è anche una prerogativa di queste istituzioni le quali come dicevano poco fa i colleghi sono assente per tutto ma a maggior ragione lo sono per questo tema specifico e allora noi come attività produttive come attività di commercio dovremmo fare un altro sacrificio economico perché costa anche qualcosa in termini di soldi in termini di soldi attrezzarci con il videoallarme che quel sistema collegato alle nostre chi ce l'ha telecamere con videoregistratore oppure il computer per far sì che possa essere collegato con le forze dell'ordine con le sale operative di carabinieri e polizia che qualora dovesse verificarsi l'incidente il furto la minaccia di una rapina se il sistema è sollecitato viene messo in cosa appare nella sala operativa delle polizie e carabinieri quello che sta succedendo nel luogo dove si sta perpetrando il lecco io di questo posso dare una mia valutazione perché io sono questo sistema ce l'ho sin dall'inizio di dieci anni fa quando l'abbiamo diciamo omologato con la polizia abbiamo fatto sottoscritto il protocollo d'intesa con l'allora prefetto la dottoressa Pagano io che ce l'ho in attivo vi devo dire che talvolta qualche volta scatta anche inavvertitamente e le forze dell'ordine la polizia non faccio in tempo neanche a telefonare a dire fermatevi perché è stato un disguido perché ce l'ho sull'uscio della porta per cui stavo dicevo bisogna che noi ci attrezziamo con questi sistemi e noi come Confcommercio abbiamo un'azienda che poi è quella che ha fatto il protocollo d'intesa con la questura ed è l'unica abilitata ci tengo anche a dirlo è un messaggio che voglio lanciare a chi ci sente e a chi ci vede è l'unica abilitata a far sì a tenere i collegamenti dell'azienda che se ne fa strumento di questo sistema con le forze dell'ordine tutte le altre non sono abilitate ma possono solo installarlo e poi passare attraverso gli istituti di vigilanza perché negli ultimi tempi si sono affacciate in questa città un paio di aziende che si presentano come i promotori gli unici detentori di un sistema di collegamento con la polizia a livello nazionale non è così bene prima di dare la parola di nuovo a Giuseppe Buoncuore in attesa della sorpresina volevo sapere se tra gli amici presenti qui nella seconda fila ci fosse qualcuno interessato a parlare vedo ma il mio intuito di giornalista vedo una signora molto che vuole dirci qualcosa sfidiamo sfidiamo la timidezza perché no no mi perdoni non mi faccia fare brutta figura perché facciamo un'intervista proprio in una delle manifestazioni si ricorda su via Liguria e lei devo dire che bucò il video nel senso che televisivamente era molto perché il microfono il microfono diceva ripetano scherzato scherzato naturalmente ma dicevo che è il convinto di interesse perché la moglie è l'amico non lo sapevo però avvicini il microfono io ci tengo molto alla mia attività è giusto che la mattina mi alzo signore il microfono vicino alla bo mi alzo la mattina entro nel mio negozio con tanta volontà di lavorare tantissima ma vedo che la città non risponde in questo momento non rispondo voglio che la città deve essere veramente vivibile via Liguria deve tornare come prima perché ci tengo tantissimo e allora andiamo dal Giuseppe Buoncuore Giuseppe Buoncuore cosa si sente si sente di dire da dove ripartire ecco quello che lei dice quello che lei si sente di dire alla nuova amministrazione dalla nuova classe dirigente di Taranto è difficilissimo sarà per la nuova amministrazione io spero che va gente grossa un gruppo grosso di persone normali che non hanno interessi comuni che vogliono bene la città perché vi ripeto ancora ci stiamo distruggendo l'ILVA ci ha distrutto non abbiamo più frutto di male non abbiamo più niente in questa città per cortesia salviamo questa città tutti insieme politici e non politici noi ce la metteremo tutta grazie bene ora un break pubblicitario e poi l'ultima parte quella conclusiva con una sorpresa per Giuseppe Buoncuore pubblicità bene rieccoci ultima parte di Polifemo come tutti state seguendo ci stiamo occupando delle problematiche del commercio a Taranto attraverso la viva voce degli operatori commerciali della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto riprendiamo il nostro giro Giuseppe Spadafino come dire il messaggio che intendiamo dare per la nuova classe politica gli auspici noi come operatori della nostra delegazione abbiamo una marea di 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 idee abbiamo studiato se così possiamo dire tantissimo conosciamo il nostro quartiere a menadito siamo disponibili siamo registrando un dialogo aperto ma soprattutto vogliamo sapere quali sono le idee le proposte per il nostro quartiere per un rilancio non solo commerciale ma di carattere generale questo perché perché noi comprendiamo benissimo che tutto passa da quello che è un discorso di confronto che avviene tra i vari stakeholder noi riteniamo appunto e quindi apriamo il fronte come delegazione i commercianti qui c'è ne sono una rappresentanza sono disposti ad ascoltare le proposte di chiunque voglia venire a dare la sua idea di quartiere perché qui si parla di uno spaccato noi abbiamo le nostre idee abbiamo le idee chiare sappiamo fare analisi e sapremo valutare quelle con aspetto critico quelle che sono eventuali proposte sicuramente come abbiamo fatto in passato noi non saremo mai non subiremo mai processi diciamo decisionali ma vorremmo per quella che è la società civile per quelli che sono i processi dei duc a venire provare a far sì che si possa dare un contributo serio a quelle equilibri che il quartiere stesso deve avere e allora è il momento di Alberto Mosca tante le tematiche trattate le conclusioni ma mi piacerebbe affrontare un altro tema quello dei distretti urbani del commercio sì noi come associazione a Taranto abbiamo dovuto firmare l'accordo col comune di Taranto firmare perché bisognava quantomeno poter spianare la strada per il futuro politico della città altrimenti avremmo perso tempo nel dover rincorrere una seconda volta con la regione per ristituire i DUC su Taranto ciò che invece abbiamo fatto a livello provinciale a livello provinciale siamo molto più avanti perché per il semplice motivo che abbiamo un'istituzione che ci parla che ci sente e quindi con dei ruoli condivisi e divisi nello stesso tempo per il proprio ruolo di appartenenza tu sei il politico io sono l'associazione insieme ci mettiamo per il bene della città non perché tu vuoi fare per conto tuo se non si condivide un'idea non si va da nessuna parte perché l'unione fa la forza e perché questo va bene dappertutto tranne che a Taranto questo non riesco a capire ma è possibile che non si riesce a sentire propria no quello che potrebbe essere in un certo senso la voglia di fare per una città che ha tantissime cose io ho anche un ruolo essendo il presidente dell'ente bilaterale noi nel nostro piccolo abbiamo fatto della formazione per i dipendenti una formazione che servirà sotto l'aspetto turistico ecco perché poi vado a ricollegare anche alla battuta no no ma non era una battuta è stato proprio un lapsus che poi era noi preparando i nostri dipendenti a livello commerciale sulla lingua inglese se domani arrivano i turisti grazie alle navi da crociera una cosa partita da lontano fortemente voluta dal presidente Gian Grande di Confcommercio se riusciremo a portare a casa un risultato sarà un risultato una goccia nel mare perché chiaramente c'è tanto da fare Taranto si potrebbe esprimere in una maniera incredibile sotto l'aspetto del turismo ecco dove è l'aspetto tra l'altro importante dei distretti perché i distretti potranno in un certo senso guardare a 360 gradi la città che possa essere il marketing il turismo il commercio la viabilità tutto ma tutto questo seguendo un ITER condiviso bene e allora andiamo da Marcello Perri anche a lei gli auspici verso nei confronti della prossima amministrazione anche perché peggio di come stiamo e di quello che è stato fatto non si può in fondo l'abbiamo toccato oddio si può andare anche sottoterra io mi auguro di no io per natura sono ottimista per cui penso sempre in positivo nella fattispecie nel fatto della prossima tornata elettorale a vedere un po' il parterre che ci si si presenta io vedo finora un gran casino passatemi l'espressione hai detto hai detto bene non volevo dirlo io al conduttore al conduttore è permesso questo no no ma è permesso a tu perché c'è un per carità è bella la democrazia che ognuno è libero di candidarsi però sinceramente vedo molta confusione quindi cosa vuoi che ti dica mi auguro che da qui alla presentazione delle liste qualcuno c'è uno forse barra due che può essere come dire sulla quale possiamo riporre le nostre attenzioni quando meno vedere un pochettino di che squadra si circonda perché poi noi abbiamo visto che l'uomo solo ha il comando anche dotato di grande capacità messo che ce ne siano stati sia a livello nazionale che a livello locale specialmente quando vuol fare le cose da solo e non si attornia di persone giuste qualificate per le specificità che occorre gestire e l'abbiamo visto noi abbiamo avuto un sindaco che io non voglio giudicarlo come persona come capacità ma è stato un incoerente che ha cambiato più giunto di lui che si può avere un'amministrazione un programma una prospettiva una continuità un futuro no io mi auguro quindi che ci sia una persona normale non dotata di grande e che si sappia attornarsi di una squadra competente e che vadano al bene della città e delle prossime generazioni perché noi dobbiamo pensare a quello io lancio un'idea per coerenza secondo me sarebbe opportuno che ogni candidato sindaco di qualunque partito o coalizione sia presenti prima delle elezioni prima del voto la propria squadra assessorile perché io devo se io vado ad acquistare la macchina X devo sapere la macchina X quali sono le sue caratteristiche che velocità le dotazioni e quant'altro non posso ordinare un caffè e poi trovarmi un tè o un whisky o altro cioè io devo sapere quell'uomo quella persona con quale squadra di governo intende portare avanti il programma come viene presentato il programma così parimenti dovrebbero essere presentati gli uomini deputati a realizzare quel programma il microfono stiamo assistendo al personaggio che si candida o si presenta come capolista al proliferare delle liste a lui collegate ma che serve io c'è io a me è una cosa che mi viene a che se cioè il fine ho capito che cosa serve però il fine voleva dire qualcosa Mosca era solo da aggiungere che giustamente come dicevi tu bisogna capire chi c'è dietro alle persone perché spesso praticamente si possono trovare delle sorprese di persone che resuscitano all'improvviso solo questa è una battuta la verità la verità è che non verrà mai e poi mai resa prima resa nota prima la squadra di governo perché qual è la verità la verità è che poi si deve promettere l'assessorato a tutti e quindi a nessuno e poi in sede di balottaggio si deve fare il mercato delle vacche per cui nel momento in cui io dico assessore è Pinco Pallino e Pallone il mercato finisce viceversa bisogna tenere come dire alzare e abbassare il prezzo e ora c'è un momento particolare l'abbiamo detto prima all'inizio di trasmissione c'è una bella sorpresa per Giuseppe Buoncuore Giuseppe Buoncuore è come detto gioielliere dal 1969 il decano dei commercianti di Via Liguria e Giuseppe Spadafino presidente della delegazione vuole tributare uno strumento una manifestazione di affetto un tributo per tanto impegno e per tanta esperienza diciamo in questi momenti di lotta il signor Buoncuore è stato ed è un esempio di come si deve portare avanti un concetto di coerenza è una persona che tutti i giorni si guarda la sua attività si guarda il suo pezzo di strada si guarda il suo quartiere con aspetto critico e per noi è un esempio chiaramente io a nome di tutti i miei colleghi che non sono potuti essere qui abbiamo pensato di una piccola cosa per il signor Buoncuore ma è dovuta perché è una persona che appunto noi abbiamo come esempio ora Marcello è la di tu sì come diceva Giuseppe è un attestato un ringraziamento per tutto quello che ha fatto come commerciante da 69 a 69 sono 48 anni dicevamo sono tanti abbiamo visto tante generazioni nella tua forse c'è anche la figliola che si sta cimentando oltre al baluardo che la sei tu è la signora che sta qui per cui come diceva Giuseppe mi corre l'onore è il piacere di consegnartelo come presidente della tua categoria ma è stato fatto dono da parte di tutti il borgo di Montegranaro a nome di tutti quanti grazie dimenticavo di dire è una la riproduzione della croce di San Cataldo in argento riprodotta da in argento da alcuni maestri la riproduzione originale di quella trovata nella tomba di San Cataldo allora Giuseppe buon cuore prego il suo pensiero so che è emozionato mi sono tanto emozionato grazie e spero diciamo che tanti anni di attività ecco auguro alla mia città di emergere 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 tanto grazie a tutti grazie bene è tutto per questa puntata di Polifemo l'appuntamento ecco abbiamo cercato di affrontare ecco vediamo ancora la concitazione l'emozione la gioia per questo gesto perché poi dopo tanti anni di lavoro vedere il proprio impegno la propria partecipazione riconosciuta dai colleghi è certamente un momento toccante vediamo la signora che è visibilmente commossa e bevono bene e allora salutiamo intanto i nostri amici cominciando da Giuseppe Spadafino presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto Marcello Perri presidente della sezione Orafi e Gioiellieri di Confcommercio Taranto appunto Giuseppe Buoncore Buoncore decano dei commercianti di Via Liguria gioielliere pluridecorato anzi decorato questa sera con tanto presidente onorario Ducci Sifundo last but not least Alberto Mosca vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega al commercio abbiamo altri qui stiamo facendo in studio in cassa Confcommercio abbiamo altri rappresentanti altri motori motori di questo sistema che si chiama commercio che si chiama economia ionica io dico sempre nel mio slogan nel mio manifesto dalla parte dei cittadini dalla parte dei commercianti del piccolo e medio commercio da parte di coloro i quali ripeto sottolineo con affetto e partecipazione dell'espressione la mattina si alzano presto si rimboccano le maniche e usando un'espressione della mattina si danno pane e danno pane a questa collettività nonostante questa città abbia voluto in tante occasioni avvelenare questo pane l'appuntamento per venerdì prossimo stessa ora ore 21 stessi canali stesse emittenti viva la Puglia Channel canale 93 del digitale terrestre visibile in tutta la Puglia e parte della Basilicata e poi su Sky canale 879 della piattaforma Sky viva l'Italia Channel l'appuntamento per venerdì prossimo il nostro saluto e poi subito dopo questo la sigla di Polifemo abbiamo un abbiamo lanciato da una quindicina di giorni a questa parte una nuova rubrica che si chiama si chiama appunto Senza Bavaglio volutamente o così plasticamente scenograficamente ho voluto far vedere la mia immagine con tanto di Bavaglio sotto l'Ilva che tolgo questo Bavaglio è un simbolo per un giornalismo serio per un giornalismo libero un giornalismo senza Bavaglio e penso che questa sera io come operatori dell'informazione gli amici come operatori commerciali abbiamo dimostrato di avere gli attributi abbiamo dimostrato di essere liberi costi quel che costi buonasera e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti.